Chiedo a tutti coloro che siedono attorno a questo tavolo e che rappresentano la classe dirigente del Feriuli Venezia Giulia un'assunzione di responsabilità senza preconcetti su scelte ineludibili. Il presidente della regione Renzo Tondo è chiaro con le parti sociali mentre illustra la prossima finanziaria. Nel 2013 dice avremo 400 milioni di euro in meno. Per chiudere il bilancio quindi non bastano risparmi o limature e in discussione la stessa impalcatura di sistema. Non una lira dei 370 milioni da trasferire allo Stato secondo il patto con Tremonti per l'attuazione del federalismo fiscale federalismo non attuato è uscita dalle casse della regione e pende un nostro ricorso alla Corte Costituzionale che si esprimerà nei primi mesi del prossimo anno. Sotto assedio sottolinea l'assessore alle finanze Savino con la riduzione della nostra autonomia finanziaria la nostra stessa specialità. Dobbiamo essere consapevoli aggiunge il presidente che tutto è cambiato. Ci sono cose che la regione non potrà più fare. Un esempio 11 punti nascita in Friuli Venezia Giulia non ci potranno più essere. In una condizione di sospensione della democrazia capisco alcune decisioni del governo. Contesto il non confronto con chi come noi ha avuto un comportamento virtuoso e responsabile nei confronti del paese. Ritorno a tondo anche sul tema della riduzione del debito regionale. Un risultato straordinario che in questa legislatura lo dimezzerà portandolo da 1,6 miliardi a 800 milioni. Una riduzione che non ha sottratto risorse al bilancio. Anzi, meno debito significa meno rate per inutui e liberazione di risorse per sanità, scuola, lavoro, formazione. Cardini della manovra assieme alla difesa della parte più debole della società, gli ammortizzatori sociali, al sostegno alle imprese. Ne aumenterà l'indebitamento la terza corsia della 4 e non costerà un euro al bilancio. L'opera è interamente a carico di autovie venete e sarà pagata con gli introiti dei pedaggi. Non sollecitare interventi dello Stato è stata una scelta politica. In questo momento di crisi, conclude il Presidente, se non fossimo partiti noi, la terza corsia sarebbe solo un incartamento sepolto negli archivi di autovie.